La car in questione è l'autografo di... Attenzio! Questo giro di video nuovece gravamente su un saluto del vostro portafoglio Bella raga! Finalmente siamo arrivati nel periodo più atteso dell'anno da tutti i collezionisti Perché oggi raga mi è arrivato questo box qua, questa scatola Che contiene il nuovissimo Top Scrum 2324 E facendo scompetition Accolta che non vedevo l'ora che mi arrivasse Tra l'altro ci ha messo anche un po' ad arrivare Perché di solito mi arriva molto più velocemente Mentre sto giro ho dovuto aspettare qualche giorno in più Vi chiedo già ora raga se volete un altro video di questo tipo In cui spacchettiamo un box completo Top Scrum 2324 E vi ricordo di lasciare un bel like ma soprattutto di iscrivervi al canale E a me supporta veramente tantissimo Ma andiamo subito con l'apertura di questo pacco E tiriamoci fuori l'eventuale box che sicuramente c'è all'interno Vediamo insieme! Eccolo qua signori! Tra l'altro raga molto leggero rispetto all'anno scorso L'anno scorso era un po' più pesante chissà il perché Ma comunque raga eccolo qui il box in tutto il suo splendore Un box da 225 euro Con all'interno garantito un autografo Che è una card su tutti in questa raccolta Che ancora fortunatamente non è stata trovata Quindi ho la possibilità di trovarla anche io Che è la card autografata da Zlatan Ibrahimovic Lionel Messi e Cristiano Ronaldo One of One Super Fractor Card dal valore potenziale di oltre 100.000 euro Ricordo che un anno fa la stessa card Però autografata da Holland, Messi e Cristiano Ronaldo One of One è stata venduta per oltre 100.000 euro Tipo 125.000 euro Purtroppo raga questa card è scesa di brutto nello scorso periodo Perché non so se lo sapevate ma quello che l'anno scorso aveva pagato a 125.000 euro L'ha venduta qualche mese fa tipo 30.000 euro Raga ci ha perso 100.000 euro così debotto Certo è che ha venduto un po' a caso perché poteva scegliere certamente un periodo migliore Comunque gli autografi da trovare in questa collezione sono veramente veramente tantissimi Di cui tantissimi raga mi interessano Ci sono autografi molto importanti come Vinicius Junior, Bellingham Il talento prodigio spagnolo Yamal Sicuro raga trovo uno schifo Comunque detto questo non perdiamoci in chiacchi e concentriamoci con questo bellissimo Top Scrum 2324 Vamolos Collezionisti eccoci qui pronti per spacchettare questo nuovissimo box Top Scrum 2324 a caccia dell'autografo L'unico autografo che possiamo trovare al suo interno Sperando sia ovviamente quella one of one triple auto di Messi, Ronaldo e ovviamente Zlatan Ibrahimovic Poi con una buona dose di fortuna si potrebbe trovare anche una Grail Comunque io non mi perderei più in chiacchiere Tante one of one sono già uscite Tante card importati sono già uscite in questa raccolta Fortunatamente ancora Ronaldo, Messi e Ibra non è stata trovata Vi ricordo ragazzi il prezzo del box 225 euro E andiamo subito a spacchettarlo per vedere se possiamo trovare quella fantastica card Solo riuscissi ad aprirlo Ok ok lo sto aprendo signori Villicola che vale 225 euro Comunque all'interno se non ricordo male dovrebbe esserci 20 pacchetti Ah si ok c'è scritto qua 20 pacchetti di cui ogni pacchetto ha 4 cards Ecco qua i pacchetti in tutto il suo splendore Ecco abbiamo un QR code che se volete vi regalo ma a me non serve Tiriamoci fuori tutti i pacchetti e cominciamo a spacchettare Regà non sto flexando però sono 220 euro di pacchetti Andiamo regà con il primo e vediamo se ci uscirà subito la numerata o qualche autografo Il profumo regà come sempre per me è incredibile mi dà una soddisfazione clamorosa Comunque pacchetta del West Ham Poi abbiamo Gianluca Mancini Poi London Schooling quindi un inserto di Isaacson della Lazio E Doku del Manchester City Ho girato e cambiato un po' tutta la scena perché non mi scocciava come era prima E partiamo con Rodrigo del Real Madrid Poi abbiamo Cubo del Real Sociedade che tra l'altro quest'anno ho visto giocare Shooting Stars l'inserto di Victor Rock del Barcellona E poi Gustil Primi pacchetti mi fanno un po' storcere il naso Però ancora il meglio dovrà sicuramente venire Future Stars di Julian Alvarez Poi abbiamo Colum One E del PSG Poi abbiamo Parallela D50 di Joshua Kimmich Niente niente male come card Questa la porto volentieri nella mia collezione Poi abbiamo Rakitic comunque base Joshua Kimmich ovviamente incredibile come card Guardate qua bellissima prima numerata di giornata Pacchetto successivo Speriamo in qualche belli Amal Tanti gli Amal autografati sono già usciti comunque Sergio Ramos del Siviglio Joe Dellingham Però versione base quindi basissima Poi abbiamo Leo Sauer E l'ultima è Rapigna Scrollatina tattica Vediamo cosa ci uscirà adesso Dai Future Stars di Antonio Silva Difensore del Benfica Poi abbiamo Fermin Lopez del Barcellona Poi abbiamo la seconda numerata di giornata Che è Ousmane Dembélé del Barcellona Sì vabbè del Barcellona L'ex Barcellona Perché ora gioca al PSG Comunque parallele di 250 in questo suo rosino Molto carina Mettiamola qua questa E poi abbiamo anche Mohamed Aliciò Il 2005 del Real Sociedad Dai dai anche le numerate non ci stanno dicendo benissimo Magari una one of one di qualsiasi giocatore sarebbe ben accetta Comunque cominciamo con Rodri Poi abbiamo Gittens Poi abbiamo Uuuuh Vediamo solo se è numerata o è l'auto Vediamo Regà abbiamo l'autografo Signori abbiamo l'autografo Io ve lo dico sincero lo terrai per dopo Quindi guardate mettiamolo qui e dopo lo spoileriamo Dietro a quella card del giocatore del Borussia Dortmund C'è un autografo Chissà chi è Davis del Bayer Monaco Buonanotte del Brighton Star Bowl debut di Desai Lee E poi abbiamo Momo Salah del Liverpool Dai spacchettamento dopo Ho perso il conto di pacchetti sincero Varela del Porto Donna Rumma della Nazione Italiana del PSG Star Bowl debut che comunque è il buon Sergio il Kun Aguero E poi abbiamo anche Diabì dell'Aston Villa Regà ovviamente l'autografo lo tengo solo per i più malati di collezionismo A fine video Let's go con Lamin Yamal Poi abbiamo Durandville del Borussia Dortmund Isaac del Newcastle E Marco Sturam Pacchettino dopo Vediamo cosa ci esce Raffa Leao del Milan Poi abbiamo Di Marco dell'Inter Julian Alvarez L'inserto Shooting Stars E poi abbiamo anche Limer Pacchettino dopo Vediamo cosa uscirà Robert Lewandowski Poi abbiamo Hartman Del Feynwald Passiamo a London School in Gavi L'inserto E Guy Menetz Pacchetti comincia a scarseggiare Signori dai dai Vediamo cosa ci escerà Di numerato ancora Marco Reus Poi abbiamo Cube Miners Uh ho visto numerato Mi sa che non è niente di interessante Purtroppo mi sono spoilerato Che era subito numerato Comunque Forson del Salisburgo Comunque parello di 399 E questa è veramente brutta E poi abbiamo anche Fermillo Pez Prossimo pack signori Prossimo prossimo pack Gavi del Barcellona Griezmann Dell'Atletico di Madrid Martinelli Golazzo Dell'inserto E Pagano Rookie Ci mancano ancora circa Se non ho contato male 7 pack d'apri E poi mostro l'autografo B-Stick dell'Inter Con il Rookie Shield Vraiment bella Poi abbiamo Ismail Sar Poi abbiamo Julian Alvarez In versione parallela numerata Bella questo inserto E anche Lautaro Il Petoro Martinez Diamoci una scrollatina Signori Diamoci una scrollatina E vediamo cosa esce Mai no Future Stars Senza Rookie Shield Però comunque è una Delle sue rookie quest Poi abbiamo Sabitzer del Borussia Dortmund Gio Ellington E l'ultima è Sono ancora 5 pacchetti da aprire E poi spoilerò l'autografo Signori Inicius Junior Del Real Madrid Doku ancora Poi abbiamo Columoni Parla della non numerata E poi Virgil van Dijk Scrollatina tattica Ancora Prima di finire Vediamo Watkins Dell'Aston Villa Soboslai del Liverpool Poi abbiamo Ansufati del Brighton E KDB De Bruyne Signori Tre pacchetti per completare Andiamo con il terzo ultimo Vediamo se ci dice bene adesso Zacharyan Del Real Sociedade Kylian Mbappé Versione base Ora al Real Madrid Fermin Lopez Parallelo Non numerato E poi abbiamo anche Musa Prossimo pacchetto E nonché il penultimo Vediamo Mintè del Feneur Poi abbiamo Guardiola Il difensore del Manchester City Il Wonderex Conate del Salisburgo E poi abbiamo anche Frankie de Jong Ultimo pacchetto Regà E poi spoileriamo Quell'autografo Signori Vediamo Mason Mount Il Manchester United E poi abbiamo Darwin De Liverpool Haraldson Wonder Kids E l'ultima è Cameri Signori Tutto tutto Molto bello Ma ci manca solo L'autografo da spoilerare Quindi se siete animati Fino a questo punto del video Vi siete meritati L'autografo Signori Che è qui dietro Ricordo solo Che l'anno scorso In questo stesso box Ma della scorsa stagione Ho trovato la parella Su 25 di Gianluigi Buffon E mi pare Regà Che sia Beh Intanto l'ultima È questo qua di Trippie E vediamo Allora In teoria è arancione Quello che avevo gesto prima Era arancione Ed è ancora su 25 Non penso sia ancora un Buffon Di questa stagione Sincero Non so neanche se ci sia Buffon L'autografo Comunque Dai capelli Non riesco a capire Di chi sia Regà Ma chi è questo autografo Chi è? Non so regà L'avete riconosciuto? Io no Di sicuro Vediamo solo Magari si riesce ad intravedere Ruolo Qualcosa Allora Come sospettavo è la 7 su 25 Ok La card In questione È l'autografo di Regà ma Regà Ci credo che ancora Fa schifo perché ancora Non l'ho ancora riconosciuto Comunque l'autografo Ah ok Vitigna signori Abbiamo l'autografo Top Scrum su 25 Di Vitigna Il centrocampista Talentino Del Paris Saint Germain Regà Poteva certamente andarci meglio Quello è poco ma sicuro Ci sono tante card che avrei voluto Poteva anche andarci molto molto peggio Perché sono anche giocatori Che non conosco Che hanno il loro autografo in collezione Non è una di quelle cards queste Regà Che aggiungo volentieri Alla mia collezione Perché preferisco nomi più particolari Più esotici Di sicuro regà Non esotici come Vitigna Però magari poi fa un prossimo mondiale Da clamoroso Io ho il suo autografo Quindi tanta roba Comunque questo regà Lo metterò direttamente Nei miei autografi brutti Comunque regà Spero che questo video Dedicato alla raccolta Top Scrum 23 24 Vi sia piaciuta Vi ricordo di lasciare like Se avete un altro video Di questo tipo Con questo box Scrivetevi un commentino Scrivetevi un commentino Se voi avete spacchettato Questa raccolta E soprattutto Cosa avete ritrovato Ma detto questo Al prossimo video Al prossimo video